A Giulianova si torna a parlare in maniera importante del tema legato alla sicurezza, dopo gli ultimi fatti accaduti all'interno del Parco Franchi due notti fa, quando due ragazzi hanno letteralmente aggredito con un macete. Il cameriere di un locale all'interno, con quest'ultimo poi ricoverato in ospedale, è sottoposto ad intervento chirurgico. I due ragazzi, un italiano ed un rumeno, sono stati poi arrestati nella giornata di ieri, da qui la polemica sulle telecamere di videosorveglianza, anche se l'amministrazione comunale conferma l'attivazione di ulteriori otto telecamere all'interno del Parco. Un episodio sicuramente spiacevole, il Parco Franchi è particolarmente attenzionato, adesso verranno installate ulteriori telecamere, l'illuminazione verrà potenziata, però non deve passare il messaggio di una città che in realtà non è sicura. Ringraziamo le forze dell'ordine che sono subito intervenuto, hanno individuato i soggetti, mi risulta che alcuni poi siano stati anche rinchiusi in carcere. Giulianova è una città sicura, noi facciamo di tutto anche con la nostra polizia locale per garantire la sicurezza in città e soprattutto in quei luoghi che sono attenzionati renderemo attraverso l'installazione di telecamere e di ulteriore illuminazione più sicuri i luoghi. Sono nate alcune polemiche tra la cittadinanza giuliesa legata appunto a questa mancata installazione delle telecamere e di visualizzazione in precedenza. Ma in realtà delle telecamere già ci sono, noi adesso le andiamo a potenziare, in città ci sono se non vado errato oltre 130 telecamere che sono servite più di una volta a rilevare situazioni di delinquenza. Ne aggiungeremo delle altre, sono previste, così come è previsto il servizio di potenziamento, di vigilanza e controllo anche da parte di tutte le altre forze dell'ordine.